un 33enne originario di caserta già con precedenti per reati contro il patrimonio faceva il palo della banda ed è stato arrestato dai carabinieri della stazione di mondolfo faceva il palo perché era il suo mestiere sembrerebbe essere un passaggio della canzone del compianto gli annacci ma in realtà è ciò che è accaduto a mondolfo in via meroni l'altro ieri quando verso mezzogiorno è arrivata al 112 una chiamata di un residente della strada che segnalava la presenza di un uomo che aveva un atteggiamento circospetto e con fare guardingo si aggirava nei paraggi tra i giardinetti e la strada in me che non si dica sono arrivati i carabinieri di pattuglia che hanno subito messo alle strette il 33enne il quale non ha convinto affatto i militari circa le ragioni della sua presenza sul posto in attesa di una fantomatica ragazza manco a dirlo men che i carabinieri controllavano il tipo sospetto una giovane donna in un'abitazione poco distante ha richiamato la loro attenzione per le grida di aiuto che lanciava per essersi imbattuta in tre soggetti che stavano frugando dentro casa sua in pieno giorno i tre alle grida della donna si sono dati a gambe levate nei campi nel retro lasciando però anche sul posto gli arnesi del mestiere ma riuscendo a portare via dall'abitazione 350 euro in contanti ma il fiuto investigativo dei carabinieri diceva che qualcosa nella situazione non quadrava e quindi hanno intensificato i controlli sul soggetto sospetto dopo la prequisizione della sua autovettura un alfa 147 parcheggiata a poco distante hanno ricostruito gli spostamenti del giovane e grazie ad alcune immagini di telecamere di video sorveglianza ricucito i rapporti con la banda di cui faceva il palo protagonista di un furto in un hotel di marotta la notte precedente i militari hanno anche individuato un altro componente della banda per il quale è scattata la denuncia a piede libero in stato di irreperibilità mentre per il 33enne casertano è scattato l'arresto su mandato della procura ed è stato portato al carcere di villa fastigi nella mattinata odierna il giudice ha confermato l'arresto e la misura cautelare in carcere ora i carabinieri del nucleo investigativo di fano utilizzando anche i rilievi della scientifica sull'auto sequestrata procedono all'individuazione degli altri due soggetti componenti la banda di topi d'appartamento ed eventuali anche riscontri e collegamenti con altri furti in abitazione avvenuti nel territorio fanese